Lo sapevate che per poter galleggiare le navi devono avere un peso uguale a quello dell'acqua spostata nell'immersione? Cosa vuol dire? Beh, secondo Archimede Pitagorico se cerchiamo di camminare sull'acqua rischiamo di annegare, ma se cambiamo posizione possiamo galleggiare benissimo. Ehm, ovviamente questo teorema non è valido se navigate in un mare di guai.